Egli dovrebbe essere qui due volte. Primo perché sono suo parente e suo suddito, porti ostacoli entrambi contro l'azione. Poi, essendo suo ospite, dovrei sbarrare la porta al suo assassino, non impugnare io stesso l'arma. Inoltre Duncan! Pagliari 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 yard Pagliari Pagliari Inclusivamente Paragliari Buonanotte Egli è là. Agisce! I serbi gonfi di cibo e di vino si burlano della consegna russando. Ho messo tante droghe nelle loro bevande che morte e vita se li contendono. Dormi, dormi, dormi! Le profetie non dovrebbero divenire in realtà anche per me in ogni esperanza. E ora taci. Il barco è andato via? Sì, mia signora, dite al grosso l'orecchie, voglio dirgli due parole. I posti sono tutti occupati. Questo è il posto che si va a fare. E dove? Ma qui, dire. Perché non è il posto? E di voi ha fatto questo! E di voi, dire. E di voi, dire. E di voi, dire. E di voi! Musica 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 e che noi probabilmente in Italia non possiamo vedere, quindi siamo molto fortunati di essere riusciti a venire qua e a conoscere la vostra cultura, soprattutto alla vostra arte in teatro, bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.